Pesaro, città dello sport, dà il benvenuto ad un nuovo polo sportivo. Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione al Padiglione F, un ulteriore spazio in zona campanara pensato per lo sport. Dopo il Padiglione D, da diversi anni casa dell'Ital Service Calcio A5, Volley e altri tornei sportivi, il Padiglione F è pronto ad accogliere gli atleti della ginnastica artistica, in attesa che vengano definiti e allestiti anche gli spazi per il pugilato. Purtroppo questa struttura è stata aperta in un periodo sfortunato per lo sport a livello nazionale e non solo. Solamente 23 atleti si potranno allenare perché sono atleti di interesse nazionale della Pisaurum. Ma la Pisaurum è una realtà sportiva che ha circa 200 atleti, è una società sportiva che ha avuto atleti in nazionale e ad oggi è la dimostrazione di quello che è il valore. Era una risposta dovuta a una disciplina che si sta allenando da tanti anni in un luogo che era piccolo. Sicuramente avere una struttura sportiva adeguata permette anche di migliorare quello che è il livello tecnico degli atleti. Questo è uno dei progetti che sono rientrati all'interno del mutuo del credito sportivo, con il quale abbiamo realizzato diversi interventi in città, dalla copertura del campo di calcio di Sant'Avonaranda al campo di Vismara, per citarne alcune, tra gli interventi più importanti, l'acquisto e l'acquisizione del padiglione D e del padiglione F, qui al quartiere fioristica di Campanara, e la riqualificazione di due impianti. Si è realizzato in questa parte di padiglione F una struttura importantissima per la ginnastica artistica. Stiamo ultimando a ridosso di questo angolo di padiglione F anche la palestra di Pugilato, quindi un intervento complessivo di lavori di oltre 400 mila euro, che danno una risposta importante e concreta allo sport pesarese. Finalmente Pesaro ha una location adatta per quanto riguarda l'attività addestrativa, anche di alto livello. Non possiamo semplicemente che essere felici di questo. Dicevamo pure appunto che da Rimini fino ad Ancona erano scomparse le attività ginnastiche di alto livello. Avremo così un'occasione in più, capito, per poter fare in modo che questi ginnasti possano non più trasferirsi in altre società limitrofe per fare le loro attività e avremo la possibilità quindi, come diceva la direttrice tecnica qui, la Cristiana Preti, di poter fare anche attività a livello collegiale, quindi di incentivare un pochino gli scambi che sono utilissimi per il nostro sport, gli scambi ovviamente con le altre società. Grazie. Grazie.